Conte ha detto alla Meloni che ha una faccia di bronzo e che ci sta portando dritti dritti verso una guerra sempre più drammatica. Che ne pensate? È vero? Ma davvero la Meloni non è capace di iniziare una qualunque iniziativa di pace e parla solo di armi? Ha ragione Conte che le date la faccia di bronzo? È un'offesa? Io credo di no, è una constatazione perché dice che qualunque cosa da Meloni se ne frega. Succedono i drammi, nessuno importa. La vicenda di Cutro si è ricordata solo dopo che tutti l'hanno criticata di ricevere i familiari delle vittime, ma è una cosa che doveva fare per prima. Aveva visto che il Presidente della Repubblica era andato a Cutro a parlare con i familiari, ma può essere il Presidente del Consiglio che aspetta dieci giorni dalla tragedia per riceverli. Quindi che Conte ha detto faccia di bronzo purtroppo può non piacere, l'espressione sembra forte, poi non mi sembra fortissima. E soprattutto il rischio è che si continui ad andare verso una guerra sempre più drammatica. E io sono e mi trovo proprio, ecco vedete, da questo lato vedete il ponte, vedete New York perché c'è la conferenza, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul tema drammatico dell'emergenza idrica mondiale, però l'ONU non sta facendo nemmeno niente. Il nostro governo, invece di prendere un'iniziativa, è morto, non fa niente. Buonasera, dice Maria, ha ragione il Presidente Conte. Ha ragione Conte, veramente la Meloni su questa materia è assolutamente inadeguata. Ed è assurdo che anche il PD, nonostante la nuova segretaria, sul tema delle armi, zitto, mosca e continua a votare solo per mandare le armi. Ora io capisco tutto, capisco che ci possiamo pensare, che vogliamo. Ecco io sono in una posizione abbastanza, ecco qua, così vi faccio vedere meglio. Allora, io capisco perfettamente che non sia facile cambiare posizione rapidamente, ma l'Asline, un segnale di cambiamento su questa cosa, lo vuole dare o no? Questo è il momento. Ma può essere che andiamo appresso a un governo che come unica strategia ha solo le armi. Ma veramente, giustamente diceva, è un dettonito offensivo. Si potrebbe dire che la Meloni ha una faccia di bronzo, perché effettivamente è capace di rimbalzare tutto, finché ci sarà un'opposizione sfrantumata, ognuno va per controllare, e questo è l'altro dramma. La nuova segretaria del PD ha già deluso profondamente, Eligio, non so se profondamente, ma sicuramente questa è l'occasione di dare un segnale di differenza. Io capisco che da un momento all'altro non può cambiare totalmente la posizione, ma qual è il segnale sulla pace, santi Dio? Quale è il segnale sulla pace? Basta! Basta! Non si può continuare solo a mandare armamenti e non avere uno straccio di iniziativa per la pace. Ma può essere che l'unico che ha un progetto di pace è il presidente cinese? Ma veramente scherziamo? Cioè l'Unione Europea non è capace di fare un programma di pace? Le Nazioni Unite, sto qua a New York, ho parlato con tanta gente, niente, non hanno uno straccio di azione. Poi le Nazioni Unite sono bloccate perché il Consiglio di Sicurezza ha il diritto di veto. È evidente che la Russia e la Cina metteranno il veto su alcune cose. Ma qualche iniziativa, l'Assemblea delle Nazioni Unite, può essere che si convoca solo per condannare la Russia? E va bene, perché siamo tutti per condannare la Russia. La Russia è il paese che ha aggredito, quindi è evidente che la Russia va condannata. Ma da qui a creare poi tra l'altro una cosa anche contro tutta la cultura e la popolazione russa? È un errore, questo è evidente. Ma oltre alla condanna, c'è un'idea o no? La Meloni ha un'idea, che vuole fare? Vuole solo continuare a mandare armamenti e spendere soldi? Il PD della Sline è un flop, dice Alessandro. Io non lo so se è un flop, ma sicuramente io sono deluso dal fatto che all'occasione di discutere del tema delicatissimo, non è che la guerra e la pace è un tema secondario, non è un argomento minore, è l'argomento degli argomenti. Siamo in guerra da un anno, di fatto, perché è chiaro che se tu mandi le armi, continui a mandare le armi, cosa succede? Di fatto sei coinvolto nel conflitto, è chiaro? E non l'hai manco detto palesemente. Negli Stati Uniti non si capisce niente, perché abbiamo Biden che non ha una posizione strategica, rischiamo di aspettare le elezioni americane del Presidente americano del 2024 e di trascinarci nella guerra perché nessuno prende un'iniziativa. Ma veramente? Ma veramente? Allora, qua dice Santa che la Sle è in una fregatura, siamo, vabbè, ovviamente il sossegno a Conte, mi sembra doveroso, perché ovviamente, se non ci fosse Conte che prende la posizione a fuori della pace e ribadisce il tema, ma chi lo fa nello scenario politico? Purtroppo anche tutte le altre formazioni politiche sono, nel migliore dei casi, taciturne, nel peggiore scatenate in una posizione superguerra fondaia. Ma veramente scherziamo? Cioè, noi stiamo destinando il Paese a un disastro. Un disastro. Io spero che il PD capisca che questa posizione è suicida anche per loro. Adesso hanno avuto una risalita nei sondaggi perché c'è un fenomeno nuovo, perché la Sle è una donna, è progressista, è ecologista, va bene, però se su un tema come la pace si appiattiscono sulla destra, durerà ben poco anche questa, come dire, emozionante ripresa. E io devo dire, non me lo auguro, non perché io voglia fare il case, ma perché io vorrei tutte le opposizioni unite sulla posizione di Conte, che è quella di dire sostegno contro l'aggressione russa, ma immediata iniziativa di pace. Perché non ci può essere una novità se non si fa qualcosa di nuovo. E poi c'è il disastro di Salvini. Ma io vogliamo parlarne di questo disastro di Salvini. Ma avete capito che oggi si è di nuovo messo a chiacchierare del ponte e che noi assistiamo a queste frasi? A Bambera ha detto il ponte costa meno del re di cittadinanza. Anzitutto basta con insultare il reddito di cittadinanza, basta con insultare i poveri, basta con dire cazzate. Eh, si può dire? E condividetelo, perché io mi assumo la responsabilità di dire che basta. Ma può essere che il parametro qual è? Che il ponte costa meno del reddito. E che significa? Che la gente deve morire di fame? Allora costa molto meno anche del sistema sanitario nazionale. Che facciamo? Sciogliamo il sistema sanitario nazionale? Non curiamo i cittadini perché costa troppo? Fammi capire. Invece di andare a prendere le tasse dai super ricchi, dalle mega organizzazioni, dalle multinazionali. Ma pensate a questo, invece di dire puttanate, per favore. Ma basta. E il ponte? Ecco, io sto vivendo un ponte. Ecco, questo è un ponte. E' uno dei ponti sull'East River, che è la zona su cui si affacciano le Nazioni Unite. Com'è questo ponte? Un ponte normale. Ma ha delle campate. Voi capite che il ponte sullo stretto in cui parla Salvini sarebbe un ponte che da una parte all'altra, a tre chilometri, non esiste un caso al mondo simile. E non è che non esiste un caso al mondo simile perché gli altri sono imbecilli e non sanno fare il ponte a tre campate. perché i cinesi, i giapponesi fanno ponti. Ma un ponte così lungo su una sola accampata, non a tre, su una sola accampata. Che significa? Che un piede del ponte sta in Calabria e un altro sta in Sicilia. Lo sapete che la Calabria e la Sicilia si allontanano e sono una zona sismica? Lo sapete che un ponte così lungo non può reggere un treno perché non c'è posto al mondo e quindi facciamo il ponte per chi lo facciamo? Per le automobili che vanno tra Messina e Reggio? Lo facciamo per un po' di camion che invece dovrebbero andare sulle navi? Come stanno andando perché c'è la mobilità su navi? Allora basta, volete fare un monumento o un'opera pubblica che serve al paese? E non contento, cosa dice il nostro ministro dei trasporti? Che vuole fare adesso il commissario alla siccità? Cioè, questo invece di fare il ministro ci vuole dire cosa fa per le ferrovie, per le strade, per le autostrade, per gli invasi contro la siccità? No, vuole fare il commissario. Ma lui è già il ministro. Vuole fare il commissario perché? Deve avere un'altra poltrona, un'altra occasione per twittare, per cercare di dire che va lì e cerca di dare un po' di acqua. Che cosa vuole fare? Lo sa che la siccità è un problema serio? Non è una barzelletta su cui basta scrivere un tweet e torna l'acqua. Allora, noi dobbiamo chiedere che Salvini, se non è in grado di fare il ministro, si dimetta, risolva un problema. Si dimetta perché lui, il ministro dei trasporti, non lo vuole fare. Lui vuole fare il twittatore. Allora, gli si dia una trasmissione televisiva, una bella trasmissione televisiva dove ogni giorno racconta una cosa nuova. Quello va bene. Il ministro è un lavoro dove devi anche comunicare. Ma devi prima fare e poi comunicare. Lui che sta facendo? Niente. Sta comunicando che si farà forse il ponte, e quindi è una cosa futuribile, che vuole fare adesso il commissario alla siccità perché poi altri faticano e lui fa i tweet. Ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo un paese che ha grandi problemi sui trasporti e che ha un chiacchierone seriale. Ma veramente, devo dire, con tutto l'affetto, mi sembra una follia. E poi da New York qualche aggiornamento. Ovviamente, come io temevo, e ho anche dichiarato in modo pubblico, l'Assemblea delle Nazioni Unite sull'acqua continua, ma ovviamente non ci sarà un documento finale. Tra Sanle qualche miracolo, perché domani finisce l'Assemblea delle Nazioni Unite, come al solito l'ONU non ha coraggio e non riesce, anche perché è difficile, devo dare atto che poi mettere d'accordo tutti questi paesi è un'impresa difficile. Però guardate, l'emergenza acqua è enorme, è enorme, e questo piano di azione Action for Water è importante perché si deve agire per l'acqua, ma nella sostanza rischia di essere un nulla, di fatto. Questo è il dramma. E stamattina, invece, io sono stato, e sono qui alla Cornell University, che è un'università importante americana di New York, dove c'è un centro delle università italiane, molto importante, l'università di Bologna, di Napoli e la Sapienza di Roma. Perché? Perché abbiamo parlato e presentato il rapporto nuovo sull'acqua delle Nazioni Unite, che è la Fondazione Univerde, che io presiedo, ha tradotto in italiano, quindi un lavoro importante per far conoscere anche in Italia a tutti, agli studenti, ai professionisti, alle imprese, quali sono le nuove strategie sull'acqua, e abbiamo lavorato sulle innovazioni, per esempio sulla produzione di energia dalle correnti. E c'è un progetto fatto nello stretto di Messina, con l'università di Reggio, e qui esattamente nell'East River, perché questa è una parte di mare sostanzialmente, è un'area di mare che circonda New York. New York ha da un lato il fiume Hudson, che è un fiume, e un altro lato che invece è acqua di mare, e questo è l'East River. Qui dall'altro lato vedete Queens, e dal lato opposto in realtà c'è Manhattan, e quindi il palazzo di Vieto e Nazioni Unite. La università, la Cornell University, oggi abbiamo presentato il rapporto e la cosa importante è la grande qualità di ricercatori e di realtà italiane che fanno cose di eccellenza e che vanno sostenute e aiutate. Ecco, io chiudo la diretta di oggi con un saluto a tutti voi e auspicando, noi continueremo a seguire i lavori delle Nazioni Unite con incontri anche con altre realtà qui a New York, ma la cosa importante, noi dobbiamo sostenere le migliori tradizioni del nostro Paese. E poi, ieri, tra l'altro, abbiamo fatto un'iniziativa anche a favore della pizza napoletana, e devo dire, in questo caso abbiamo ottenuto che sul tema della lotta alla difesa del Made in Italy, contro il Nutri-Score, contro le cose sbagliate, anche il Ministro dell'Ambiente Italiano, che è qui per la delegazione, e la Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, tra i rappresentanti istituzionali che si trovavano qui a New York, hanno dato l'adesione alla campagna No Fake Food. Almeno nella difesa dell'agroalimentare italiano e la lotta contro il falso Made in Italy, spero che su questo ci possa essere il consenso di tutte le realtà del nostro Paese. Ecco, io vi saluto, un saluto da New York, vedete che qui ovviamente sono l'uno e mezza, mentre in Italia ovviamente sono cinque ore e più avanti, e un appuntamento appresso. Io continuo a mandarvi aggiornamenti, anche se ovviamente con la diversità di Fuso Dario non riesco a essere proprio su tutti i temi in contemporanea. Buona serata a tutti voi. Ciao, ciao.